Mi auguro che tutte le forze politiche italiane si facciano parte attiva presso le proprie famiglie politiche europee affinché questo risultato così importante per la nostra nazione possa essere raggiunto rapidamente e senza inciampi per consentire alla Commissione in un momento così delicato di essere pienamente funzionante dal primo dicembre. Non mancheranno le occasioni per dividerci nel corso di questa legislatura europea su tanti temi su cui le diverse forze politiche hanno opinioni spesso radicalmente diverse ma di fronte all'affermazione dell'interesse nazionale credo che abbiamo il dovere di essere uniti. Ci sono momenti in cui l'interesse nazionale deve prevalere su quello di parte e mi auguro sinceramente che questo momento sia uno di quelli senza distingo, senza tentennamenti. La delega del PNRR secondo le indicazioni della Presidente dovrà essere esercitata congiuntamente con il Commissario Dombrovskis e qualcuno ha letto in questo affiancamento una sorta di ipoteca rigorista mentre io credo che questa stretta collaborazione di carattere paritario rappresenti piuttosto l'opportunità per il Commissario italiano di far valere le ragioni di una necessaria maggiore flessibilità sugli investimenti. Una posizione storicamente italiana che ha trovato soltanto un primo parziale accoglimento nella riforma del patto di stabilità appena entrata in vigore. Grazie. Grazie.